E poi nel 2007 abbiamo creato un primo nucleo di quello che sarebbe poi diventato il laboratorio di Lamborghini all'interno dell'Università di Washington, dove venivano delegati alcuni aspetti fondamentali di sviluppo per la tecnologia out of the clave in RTM, che sarebbe poi stata la base della monoscocca della futura Aventador. L'anno successivo, 2008, abbiamo siglato il primo accordo di collaborazione con la Boeing per studiare il comportamento a crash del materiale composito e della monoscocca della Aventador. E non dimentichiamo poi che per la prima volta nel mondo automotive la Lamborghini inizia ad implementare le tecnologie, i processi e i metodi di simulazione e caratterizzazione propri dell'aeronautica e dell'aerospace. Grazie a tutti.